C'eravamo tanto amati. Dopo una lunga relazione si sono lasciati, ma di restituire l'auto alla ex non ci pensava proprio. Lui, un 41enne milanese, ma residente a San Martino di Lupari da tempo, non voleva infatti restituire l'Audi A8 che abitualmente condivideva con l'ex fidanzata. Lei quindi decide di far intervenire i carabinieri. Raccolta la segnalazione, i militari hanno accertato che l'auto era ancora in uso all'ex fidanzato, che dopo l'ennesimo rifiuto è stato denunciato. Nel corso delle indagini si è anche scoperto che la vettura non avrebbe nemmeno potuto circolare. Una lunga serie di multe non pagate aveva portato al sequestro amministrativo del veicolo, di cui però l'uomo non si è mai curato, girando indisturbato fino al giorno del controllo.